Benvenuti, sono WarioFace85 e oggi ci troviamo qui sul testamento di Sherlock Holmes. Allora, come vi ho detto l'altra volta, praticamente sto usando le cuffie, la potete vedere, le cuffie delle mie cuffie Sound Blaster con il Rode, direttamente collegate nel Rode e sempre dalla spia del Rode sento anche la musica del gioco. Quindi ho deciso, visto che questo microfono dà questa possibilità, ho deciso di usarla anche nel PC e devo dire che sinceramente la resa è veramente pazzesca. Sento perfettamente la mia voce in cuffia. Allora, ragazzi vi devo dire, allora devo dire una cosa, oggi veramente sta facendo un caldo tremendo, veramente un'estate bellissima, devo dire sono veramente contento, sto cercando di godermela il più possibile, quindi sto cercando di giocare e di fare video, diciamo nei momenti tra quando torno dal mare e quando sono libero. Quindi se per caso qualche volta dovesse succedere che non posto qualche video, praticamente è perché sono, diciamo così, in vacanza. Cioè ci vuole, l'estate è fatta per questo. Allora, torniamo al gioco. Ok. Torniamo al gioco. Allora, siamo Sherlock Holmes. Ok, dobbiamo dare lo sguardo alla nostra cartina perché dobbiamo andare da un'altra parte. Era qua? No. Allora, Whitechapel, Kingston Garden, prigione di Westgate. Sì, Whitechapel Street l'abbiamo già, abbiamo già visto. Sì. Fumeria a doppio, Whitechapel, dispensario, Batty Street. Quindi adesso dobbiamo decidere se andare o dalla prigione di Westgate o da Kensington Garden. Allora, io direi a questo punto di andare direttamente alla prigione di Westgate perché sono curioso di vedere il, diciamo, uno dei sospettati, ma più interessanti, diciamo così, di questa avventura. Quindi, andiamo alla prigione. Eh, casi che prigioni londinesi abbastanza inquietanti. Purtroppo, scusate... This isn't the fastest costruzione di più. It's one of the oldest and surest in the kingdom. I've heard that it is soon going to be demolished. Don't you find it strange that it still houses criminals as dangerous as Hans Scheelmann? There's nothing strange about it, Watson. The name of this prison is linked with numerous failed escape attempts. As long as it stands, the criminals will fear it. Buongiorno, ragazzi. Brighton, I'm afraid I can't announce you. I'm not allowed to leave my post under any circumstances. But I'm sure that the Director won't refuse to see you, even without an appointment. Do you see the corridor behind the reception? Follow it to the Secretary's office. You'll find him there. Thank you, Warden Brighton. One last thing. Hans Schielg received any visits lately? None. And I'm sure because I've dealt with receiving visitors for several weeks now. I volunteer because it's a calm post to be in. We don't get many visitors and it gives me time to write. Just like you, Dr. Watson. I enjoy literature and the... Very good. Thank you. That was very impolite, Holmes. That man admire our work. You could have given him another time. Let's go and meet the Director of the prison. Watson, non puoi pretendere. Sarai anche ammirato quanto vuoi. Sarai anche una questione di ammirazione da parte vostra, ma... Banco dell'accettazione. Allora, vediamo di qua. Comunque, dicevo, ci saranno magari qualche piccolo rumore. Qualche piccolo rumore di fondo, perché il computer naturalmente col caldo lavora molto di più. E poi naturalmente io ho acceso il condizionatore perché altrimenti probabilmente morirei di caldo. Proviamo ad andare, quindi, dritti. Non c'è nulla di interessante. Quindi qui... Penso sia tutto chiuso. Sì, è tutto chiuso. Vabbè, penso che queste siano... No, vediamo un attimino prima cosa ci dice quel... Il tipo di qui dentro. Scusate, ma questa area è proibita senza un passaggio. Per favore, lasciate. Dobbiamo vedere il Direttore di prison rapidamente. No. Quindi praticamente dobbiamo andare di qua. Questo... Stavo andando giusto alla fine. Quello deve essere l'entrata. Quindi la segreteria è questa. Quindi entriamo. Ecco la segretaria. Buongiorno, Miss. Oh, excuse me, I dropped off. Buongiorno, gentlemen. What can I do for you? I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We would like to talk to the Director. I'll just go and see if he can receive you. Ok, quindi... This small rack is for urgent letters to be given immediately to the Director. Ok. This charming secret drink is Miss Jenny Patterson. Ok, e quindi? Del tè caldo. Eh, beh. Vabbè, entriamo qua dentro. Mr. P. Patterson. No need to go in there. Strange. The Director and the Secretary have the same name. Eh, sarà la... La moglie. I'm delighted to meet you, Mr. Holmes. I am Paul Patterson, Director of this establishment. You wish to talk to me. I hope this unexpected visit isn't to announce bad news. No, do not worry. We are investigating an affair of the highest importance. One which could potentially affect the security of the Kingdom. Therefore, it is imperative that we interview one of your prisoners, Hans Scheelman. Hans, the Rat Killer? He's been in here for a long while now. And he's had no contact with the outside. How could he be involved in such an affair? That is what we would like to find out. And you have been commissioned by Scotland Yard? Evidently. Lascia passare. Very well. I have complete confidence in you, Mr. Holmes. I will draw up a pass that you should give to Warden James in the guardroom. He will show you to the cells. Thank you, Director. Keep me informed of your progress. And if there is anything else, don't hesitate to let me know. We shall certainly do so. Legami familiari. Miss Patterson, you have the same name as the Director. Are you related? Come, Watson. Anyone who might have made the slightest study of anthropology would have noted the similarities between the young lady and her father. Mr. Holmes is right. I am his daughter. But he doesn't like to talk about it. I think he's afraid of being accused of favoritism. I'm sure it was your qualities alone which secured you this position, Miss. If you must try out your powers of seduction, then what do you say about using them on the rat killer? L'ha smontato, l'ha smontato. Let's go to the high security area, Holmes. Watson, ti ha appena smontato dicendoti che ci stavi tacchinando con la tipa e avevi anche tutte le ragioni. Ma perché non mi mandi affanculo? Boh. Quindi dobbiamo andare non nella guardiola ma qui, penso. Aspetta, vediamo un po' se questo ci porta qui. Ah, ok. Allora sono qui, quindi la dobbiamo chiedere a quest. Sì, ma i lascia passare? Sì, ma i lascia passare? Che cacchio? No, dobbiamo tornare indietro. Non abbiamo preso il lascia passare. Come desiderate qualcosa altro? Dove cazzo è il mio? Dov'è il lascia passare? Ma porca puttana Ma che cacchio Sì, ma bogati di mezzo E dove cazzo è la massima sicurezza? Forse sarà questa I'm security liberal, ok Ma com'è la cosa? Scusa, mi stanno prendendo per il culo Eh, va bene Ma io il lascio passare E che cazzo Ma porca puttana Ma come faccio? Ma che cacchio Ma che cazzo Sì, cazzo, cazzo Sì, cazzo, cazzo Sì, cazzo Sì, cazzo, cazzo Sì, cazzo Sì, cazzo, cazzo Allora Io direi A questo punto Forse, forse Sì, cazzo, cazzo Sì, cazzo Sì, cazzo